Il filo o senza filo? Il filo, ma tu resta qua perché ti devo ringraziare per avermi coinvolto in questa figata di evento Grazie a Gioia di Tassello, ciao a tutti Io sono Dario, per chi non mi conoscesse, sono un chitarista, un insegnante Vi ho portato dei ragazzi Intanto si prepara Federico Caputo Ma che bella è! La chitarra di Stolta, ma che bella è! La chitarra di Stolta 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.